un legamento disponibile nelle vicinanze rilevo un'unità dati non è lontana unità dati intatta al sicuro non è l'unità dati vicino i nemici chiedono rinforzi se potete vi consiglio di fermare il loro segnale alleato a terra il compagno ha perso un'unità dati collegamento lì vicino sarà utile se dovesse servirvi il supporto ho preso la prima unità dati un'altra unità dati molto bene connessione stabilita il supporto sarà pronto quando vi servirà collegamento attivo collegamento attivo tenete strette quelle unità quando è il momento andatevene i tutti i rinforzi sono arrivati Ok. Il nemico ha chiesto rinforzi. Cercate il segnale. Rincorsi nemici d'arrivo. Dovreste poter vedere il loro segnale. Sembra che stia arrivando una capsula. Dopo lo schianto, recuperate le unità dati al suo interno. Il nemico chiede rinforzi. Dovreste poter vedere il segnale. Ho trovato un'altra unità dati. Unità dati presa. Involucro intanto. C'è un nemico. Eccole. Porte di occupazione. Fuoco nemico. Muovete il porto. A nullare. Arriva il verivolo. Non allontanatevi dalla zona di estrazione. Sto ricaricando. Aspettate. Nuovo nemico. Consodia delle unità dati compromessa. Riprendetele se ci riuscite. Sono ferita. Aiuto. Ho bisogno d'aiuto. Sta arrivando un'altra capsula. Dovrebbe contenere altre unità dati. Ricarico! Siamo fuori! Deico ha fissato. 30 gradi. 40 metri dalla mia posizione. Venivo alla terra. Pronti all'estrazione. Devo ricaricare. Andiamo, andiamo. Un vostro compagno ha appena perso alcune unità dati. Pronti per inizio sequenza lancio. Al mio segnale. Task force ostile estratta dall'area. Il mio indicatore. Altre unità dati trovate. Il mio segnale. Nuova capsula individuata. Scende veloce. Collegamento dalle vostre parti. Soli. Altre truppe di occupazione. Altra capsula piena di unità date in arrivo. Quest'area sembra pullulare di truppe terrestri. Vado agli ultimi preparativi. Arriva l'ultimo velivolo di attrazione. Vado agli ultimi preparano da dietro. Collegamento dalle vostre parti. Attivatelo e potremo mandarmi supporto. Hanno lanciato forze di occupazione nella vostra zona. Forze di occupazione. Vado agli ultimi preparatori. 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 all comp Katherineframide schifano a harvestissimcrata. Vado agli ultimi preparatori con l'unicory di attrazione. Vado agli ultimi preparatori. Trasporto pronto, salite sul velivolo Tutti a bordo, avanti Non è finita, capito? Per ora siete a terra, ma vi riporteremo a casa